mi vuoi cosa cos'è cambiato cos'è quello che francesco francesco punto interrogativo 5 euro grazie mille ragazzi va bene che c'è la penitenza da fare va bene però fatti questa cosa francesco 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 cos'è mi parte così mi parte o mi parti così francesco 20 euro ma questo va sempre di più ad aumentare questo aumenta sempre di più francesco aumenta e prima 5 mo 10 mo 20 poi 50 poi 100 francesco no francese 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 no ma che fa ma che cacchio fai ma tu mi fai prendere gli infarti oh mannaggia la puttana francesco ma mannaggia la vacca francese 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 francesco è iniziata ora la live e neanche 10 minuti e neanche 10 minuti inizia tra live alex ma se metti pure te ma se mette pure alex ma me la stanno facendo apposta ma alex pure tu ti ci metti oh madonna oh madonna sono pazzi ma che cacchio ma quante pertenze che vi volete far fare oggi che vi volete far fare oggi e la madonna tra olex e francesco Ma sono pazzi Ma ancora Ma ancora 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 50 Ancora 50 Ancora Vendicarmi Tu vieni qua schifoso Alex Eh ma che cazzo ne sapevo Francesco Rosso Chi è Mosso Rosso Spero non di cognome Non di dato di fatto Non di fatto Rosso Ma porca mia E' della seconda penitenza Ma la seconda no Ma guarda lì Guarda lì altri 100 Francesco Rosso 10 Devo fa 25 penitenze Guarda Basta Quante penitenze So che ancora Francesco Rosso Francesco Rosso 20 euro Oh madonna Questo pure ci mancava Ma che stai arrivando Pure te a Rosso E ti chiami Rosso Vuole arrivare pure te a Rosso Fammi capire Sicuro perché Oh madonna Benedetta Oh madonna Benedetta Oh madonna Benedetta Ma quanto Quanto ne dai ancora Filippo Quanti ne hai ancora Ma veramente vuoi superare il minuto Bro non ti conviene superare il minuto Sì No No Mene di più Ancora 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 Ancora